Cani malnutriti e in precarie condizioni igienico-sanitarie. Ecco cosa avrebbero trovato i carabinieri della tenenza di Ribera che hanno sequestrato un canile privato incontrato a Scilinda e denunciato in stato di libertà il proprietario, accusato per l'ipotesi di reato di maltrattamenti di animali. I carabinieri hanno effettuato il controllo dopo aver ricevuto una segnalazione. Il primo e più immediato provvedimento è stato quello dell'intero sequestro dell'area rurale, magazzino compreso. Il canile privato avrebbe gestito in uno stato di faticenza almeno 12 cani che sono stati prelevati e portati in un altro canile privato. Pare che ad accorgersi dello stato d'abbandono dei cani di diverse razze ed età sia stata un'associazione ambientalista del luogo. Oltre ai carabinieri è intervenuta anche la polizia municipale di Ribera che ha acquisito documentazione varia a supporto delle indagini. Da quanto si apprende il proprietario del canile privato di Scilinda, posto sotto sequestro ieri, già lo scorso anno era stato sanzionato. Adesso i carabinieri pare che stiano accertando se i cani siano stati affidati al canile privato dai cittadini liberesi oppure se tutti gli animali fossero dei randaggi raccolti per strada e portati nella struttura. Il proprietario dell'area rurale e del magazzino è stato deferito alla procura della Repubblica di Sciacca.